Buonasera e ben ritrovati al nostro nuovo appuntamento regionale in gran parte dedicato alla visita del Premier Mario Monti a Reggio Emilia in anniversario del 215esimo anno della nascita della bandiera italiana. Quella di Mario Monti a Reggio Emilia è stata una visita scandita dalla storia ma soprattutto dall'attualità. Infatti era atteso il suo passaggio riguardante la cosiddetta manovra Salva Italia. Una escaletta che ha vissuto fin dall'inizio un ritardo di 20 minuti che si è procrastinato nell'arco di tutta la giornata. Altro dato di cronaca invece è stato che Monti è stato sì ricevuto da molti applausi ma anche qualche contestazione soprattutto di partiti e indignati vari. Ci racconta tutto in questo servizio Isabella Trovato, poi vedremo a ritroso la giornata reggiana di Mario Monti. Presidi, fischi e la presenza di contestatori isolati tra la folla ma anche applausi e tante persone che già dalle 9 del mattino sono scese in piazza per accaparrarsi posti davanti alle transenne e poter salutare colui che ritengono il salvatore dell'Italia. Se pensiamo ad un solo scatto fotografico capace di immortalare tutto quello che c'è stato nella visita del Presidente del Consiglio Mario Monti e Reggio per le celebrazioni del Tricolore, questa sarebbe l'immagine migliore. Una città divisa in due, civile, dove ogni manifestazione, anche se confischi e urla, è stata regolare. Una città dove le forze dell'ordine hanno mantenuto l'ordine pubblico grazie al piano sicurezza messo a punto per la giornata delle celebrazioni con massiccio di spiegamento di mezzi e uomini, dalla polizia ai carabinieri alla finanza alla polizia locale. Il Presidente ha fatto il suo ingresso in piazza Prampolini alle 10.50 con circa 20 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Qui l'alza bandiera, poi un passaggio dalla sala del Tricolore fino al discorso al Teatro Valli davanti ad una platea gremita. Tra i manifestanti, presidi in via Farini, degli indignati con il laboratorio a Q16 e poi rifondazione comunista in via Sessi con un singolare sipario di teatranti a enneggiare la via Crucis come metafora dei tagli. Poi le urla in piazza della vittoria di un commerciante ambulante con un accordo al collo per rappresentare lo strangolamento dei debiti. Un folto gruppo della destra sociale è vicino al teatro municipale la Lega Nord sostenuta nella protesta dagli operai delle reggiane che rischiano di perdere la pensione. Fischiati ovunque tutti i politici reggiani dai manifestanti. Allora questa è la cronistoria della giornata, il momento clou era quello del Teatro Valli dove tutte le istituzioni erano in platea per ascoltare il discorso del Premier Mario Monti tra la storia e soprattutto l'attualità. In particolare ascoltiamo questo passaggio tra i più applauditi, quello in cui Monti dopo le tasse ha garantito lotta all'evasione fiscale e tagli ai mille privilegi che costellano il nostro bel Paese. Ascoltiamo. Certo sappiamo dal Governo di aver chiesto sacrifici a tutti, ma il Governo seguirà come sua stella polare la ricerca della giustizia sociale e dell'equità. Abbiamo già deliberato, con la fretta che ha caratterizzato la nascita del nostro Governo, la nascita è sempre un atto di fretta al quale si può essere più o meno preparati, ma non sempre un neonato riesce a correre come se fosse un fondista già in corsa. Abbiamo già deliberato importanti strumenti contro l'evasione fiscale e contributiva, continueremo su questa strada. È inammissibile che i lavoratori sopportino sacrifici pesanti, mentre una porzione importante di reddito sfugge a ogni tassazione, accrescendo così... Grazie della comprensione mi avete così consentito di bere un po' d'acqua. Sfugge a ogni tassazione, accrescendo così la pressione tributaria su chi non può sottrarsi al fisco. È necessario, lo so benissimo, evitare una pressione fiscale eccessiva, che scoraggi gli sforzi produttivi individuali e la competitività delle imprese. Su questo, come Ministro dell'Economia e delle Finanze, vigilo e vigilerò. Ma agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, a tutti coloro che con impegno, dedizione e rischi personali provvedono a che l'evasione fiscale finalmente si riduca, voglio dire il mio grazie e assicurare il mio appoggio. L'espressione entrata nell'uso corrente in questi anni di mettere le mani nelle tasche degli italiani come sinonimo di tassazione non mi ha mai persuaso e comunque è incompleta, è incompleta. Perché? Perché ci sono altri atti di mani che entrano nelle tasche. Questi sì, sicuramente, da sconfiggere. Due, ne cito. Alcuni italiani mettono loro, le loro mani, nelle tasche di altri italiani. Sono gli evasori rispetto ai contribuenti onesti. O ancora, alcuni italiani, e guardate se ci pensiamo quasi ciascuno di noi appartiene a questo sobrio alcuni italiani che ho pronunciato, alcuni italiani mettono le loro mani nelle tasche di altri italiani senza che né i primi né i secondi se ne accorgano estorcendo privilegi o rendite spesso a seguito di provvedimenti pubblici del governo centrale o dei governi locali che hanno introdotto e mantengono senza aggiornamento, senza revisione, inciampi al gioco della concorrenza e del mercato che creano rendite di posizione. Se volete, tra la nostra cosiddetta fase 1 e la nostra cosiddetta fase 2 il filo conduttore mi viene in mente adesso è quello di invitare tutti a tenere le mani a posto. Ecco, questo è il passaggio più applaudito di Mario Monti con la battuta finale, una battuta a cui è abituato nella stampa italiana il Premier prima però di questo passaggio che era un po' quello che tutto il Paese non solamente la platea del Valle avrebbe voluto sentirsi dire in questo momento il sindaco del Rio, la presidente della provincia di Reggio, Sonia Masini e il governatore della regione Vasco e Rani avevano a loro volta fatto un intervento incentrato sull'importanza dell'ente locale. Ascoltiamoli. Caro Presidente, cittadine e cittadini, davanti a una realtà sempre più complessa assistiamo oggi a semplificazioni disarmanti rispetto alle quali occorre reagire. Dobbiamo affrontare il cambiamento, rivedere le nostre certezze ma l'orizzonte di riferimento deve essere chiaro. Il nostro riferimento qui da Reggio Emilia continua a essere, e crediamo per tutto il Paese continua a essere la nostra Costituzione, la nostra resistenza questa carta dei diritti del vivere civile che può dare risposte vere e attuali all'Italia del terzo millennio. Qualcuno potrebbe pensare che il non aver proceduto con la necessaria solerzia all'abolizione delle province esponga oggi il Professor Monti e tutti voi ad un saluto supplementare di cui si potrebbe certo fare a meno. Mi auguro si possa eventualmente consolare chi pensa così con il fatto che in questo contesto sottraendo la provincia sarebbe venuta meno l'unica voce femminile e forse ciò avrebbe costituito un vero torto ad una realtà, quella di Reggio Emilia e dell'Emilia Romagna che tanto devono al lavoro delle donne e alle loro idee. Noi, signor Presidente, in Emilia Romagna ci stiamo provando abbiamo sottoscritto poche settimane fa un patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva con tutte le forze economiche e sociali, le istituzioni locali, il terzo settore e il volontariato con al centro il credito per le imprese, la ricerca e l'innovazione la priorità assoluta del lavoro e il contrasto alla precarizzazione per i giovani e le donne relazioni industriali di qualità, la qualificazione del welfare che in questa terra non è solo redistribuzione di reddito e opportunità ma un fattore di qualità irrinunciabile della comunità. Questo dicevamo i passaggi principali prima della lotta all'evasione e prima ancora delle riforme ci sono state una serie di prese di posizione significativa quella dei sindacati reggiani della triplice Cigelle Cislewil che a proposito dell'articolo 18 della riforma del mondo del lavoro hanno scritto a Mario Monti chiedendo che il governo metta al centro della sua agenda il consolidamento e il sostentamento del sistema di relazioni e di contrattazioni tra le parti sociali insomma rimettere il lavoro al centro di un piano straordinario questo l'appello dei sindacati a Mario Monti Facciamo un ulteriore passo indietro prima del Teatro Valli infatti il presidente Mario Monti attraversando Piazza Prampolini si era recato in Sala del Tricolore il luogo fisico dove 215 anni fa era nata la bandiera italiana e la nascita della Repubblica Cispadana dopo aver consegnato una copia della Costituzione ad alcuni giovani neocittadini italiani e Mario Monti si è lasciato andare ad un fuori programma Chiedo scusa se faccio un fuori programma e sarà veramente solo una parola ma sono molto emozionato e grato a Reggio Emilia al suo sindaco a tutti loro questa per me è la prima visita in una città italiana e mi sembra giusto cominciare da qui e ho trovato molto significativo significativi diversi aspetti di questa semplice ma commovente cerimonia a cominciare dal fatto che comuni, comunità queste sono le parole su cui l'Italia si è storicamente e spiritualmente fondata devo confessare che anche nel caso dell'Europa io in fondo preferivo la vecchia espressione comunità europea a quella Unione Europea perché comunità dice tutto e questa unione tra Reggio Emilia e Salerno è anche un simbolo di come dobbiamo vedere l'Italia di come dobbiamo unirci perché l'Italia sia sempre più forte e rispettata in Europa e nel mondo dopo le tasse dunque le riforme ha promesso Mario Monti e poi l'Italia rigorosamente dentro l'Europa sia politicamente che economicamente vietato uscire dunque dalla moneta unica non solo applausi e peana per il Premier ma anche diverse contestazioni anche organizzate anche se sono tutte risolte in un modo pacifico gruppi di indignati, i grillini rifondazione comunista soprattutto la Lega Nord i momenti di tensione ci sono stati soprattutto tra gli esponenti della Lega Nord circa 200 di fianco al Valli che hanno gridato buffoni ai sindaci della provincia di Reggio che stavano lasciando sale tricolore per arrecarsi al Valli quello che si è arrabbiato più di tutti è stato il sindaco di Sant'Ilario Marcello Moretti che ha avvicinato i manifestanti con i quali ha avuto uno scontro verbale Moretti ha chiesto ai carabinieri di identificare i manifestanti a capeggiare la manifestazione del Partito del Carroccio c'era l'onorevole della Lega Nord Angelo Alessandri che così sintetizza i motivi della protesta diciamo che il motivo vero di unione è soltanto il fatto che questo governo non è legittimo e non è legittimato a nessuno è stato eletto da nessuno imposto dall'altro da Pirinari, dall'Europa e dai banchieri e ci sembra che quello che abbia fatto prima di Natale io l'ho definito una supposta di ferro rotante di una di quelle cose che fanno veramente male senza che ne sia stato malegittimato da nessuno da farlo il fatto che lo appoggi sia la destra che la sinistra il centro-destra e il centro-sinistra da Bersani fino a Berlusconi è abbastanza emblematico di come hanno dovuto blindare questo governo fatto di tecnici rappresentanti solo delle banche e della finale tra i leader nazionali c'era come preannunciato il segretario nazionale del PD Pierluigi Bersani molti anche gli onorevoli tutti i reggiani e prima del palco del Teatro Valli dove Mario Monti ha preso la parola c'è stato come già preannunciato dalla stampa questa mattina un abbraccio tra lo stesso Monti e l'ex premier Romano Prodi che ha lavorato assieme a Mario Monti quando lo stesso Romano Prodi è stato presidente dell'Unione Europea ecco dovremmo vedere fra pochi istanti l'abbraccio tra i due in qualche modo colleghi Mario Monti oggi premier e Romano Prodi che è premier del nostro paese presidente del Consiglio ecco l'abbraccio è stato più volte un abbraccio scandito dagli applausi e ampiamente preannunciato da alcuni organi di informazione nazionali abbraccio doveva essere abbraccio è stato questa dunque la cronaca della giornata reggiana del premier Mario Monti ne parleremo diffusamente naturalmente anche nelle prossime edizioni ma adesso veniamo ad altre notizie dalla regione e dalle altre province andiamo a Modena perché è stato venduto nell'autogrill dell'area di servizio a Secchia Este sull'autostrada del Sole il biglietto che ha vinto il secondo premio assoluto della Lotteria Italia circa 2 milioni di euro si festeggia nella rivendita che ha recentemente aperto ma sarà molto difficile risalire alla identità del fortunato acquirente anche perché i clienti sono per lo più lavoratori o turisti in transito sulla 1 secondo i gestori il biglietto sarebbe vincente sarebbe stato venduto prima di Natale restiamo in quel di Modena passiamo alla cronaca è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa e in condizioni sempre molto gravi Paolino Franchini il regattiere 72enne trovato col cranio fracassato a Denzano di Marano sul Panaro nel Modenese l'ipotesi è quella che l'uomo possa essere stato aggredito visto che oltre al trauma cranico aveva ferite in altre parti del corpo non si esclude però che possa essere caduto malamente o essere stato colpito accidentalmente il 72enne di Castelvetro è stato trovato agonizzante da un giovane probabilmente dopo essersi trascinato dal casolare disabitato a pochi metri di distanza lo provano le tracce di sangue lasciate dall'anziano restiamo a Modena il jeep di Modena infatti deciderà dopo domani lunedì se dovrà rimanere in carcere Michele di Stasio 57enne fratello di Gerardino l'elettricista di 44 anni trovato senza vita col corpo trafitto da una fucilata al petto giovedì ad appalto di Sogliera nel modenese Michele di Stasio è stato arrestato dai carabinieri per recettazione detenzione e abusiva d'arme e favoraggiamento dopo che in una rimessa collegata alla casa dove è stata trovata la vittima era stato scoperto un fucile risultato rubato sono in corso indagini per stabilire se sia quello usato per l'omicidio il 57enne ha comunque ammesso di aver spostato l'arma ma nega totalmente di essere coinvolto nel delitto ci spostiamo in quel di Bologna perché sono stati recuperati dal soccorso alpino tutti e cinque gli escursionisti scivolati mentre tentavano una scalata di una parete ghiacciata sul corno alle scale nell'apennino bolognese il più grave è un e cinquantenne issato con un verricello e portato in elicottero al maggiore non sarebbe in pericolo di vita gli altri due feriti sono i figli dell'uomo finiti in condizioni meno serie all'ospedale di Porretta per gli altri due componenti la spedizione coinvolti pure loro invece non ci sono state gravi conseguenze cinque erano partiti dal lago Cavone erano incordata sul quinto canolino e una via alpinistica che sbuca pochi metri dalla croce in cima alla montagna nelle vicinanze del crinale dei balzi dell'ora quando uno è caduto trascinando con sé tutti gli altri che erano incordata restiamo a Bologna durante una passeggiata mattutina è scivolato nell'acqua gelide di un canale nella periferia di Bologna è però riuscito a telefonare al 112 col cellulare ed è stato salvato dai Carminieri il protagonista della disavventura e un 46enne di Bologna recuperato attorno alle 6 dai militari era finito nel canale di Reno vicino a Via della Barca e a causa dello shock termico per la temperatura dell'acqua non riusciva più a risalire sugli argini fino a quando il cellulare non ha risolto del tutto quasi i problemi della persona ancora cronaca da Bologna tre auto e un furgoncino andati a fuoco nella notte in zona Pilastro periferia di Bologna polizia e vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme non si esclude l'ipotesi che si tratti di roghi dolose sul posto anche la scientifica per gli accertamenti veniamo al maltempo perché è vero che c'è stato il sole in gran parte della regione ma ieri per esempio il forte vento ha provocato numerosi disagi vediamo quelli che sono avvenuti nella bassa reggiana in questo servizio di Antonio Lecci un grosso albero del parco Vivaio in via Sacco e Vanzetti a Guastalla rischiato di cadere al suolo verso il centro della trafficata rotatoria all'altezza del centro commerciale che pure ieri era frequentato ai numerosi clienti il forte vento ha provocato il cedimento della pianta che si è piegata verso la strada fortuna che la presenza di un altro albero ha bloccato la caduta ma alcuni rami sono finiti sul marciapiede sottostante e ci si è accorti del pericolo nella tarda mattinata sono stati chiamati sul posto i carabinieri e la polizia municipale che hanno subito chiuso il traffico facendo transitare i veicoli dal parcheggio del centro commerciale sono poi arrivati i vigili del fuoco che hanno subito preso visione della situazione rendendo necessario l'intervento di un'autoscala per raggiungere la sommità dell'albero pericolante pian piano ridotto a piccoli pezzi poi recuperati dalla strada impossibile rinviare l'intervento visto che il forte vento che ha continuato a soffiare per ore rischiava davvero di muovere la pianta pericolante che poteva cadere su un'area di intenso traffico solo nel primo pomeriggio la pianta pericolante è stata rimossa con la situazione nuovamente riportata in sicurezza anche se sarà necessario verificare pure la stabilità degli altri alberi posti all'ingresso del parco vivaio comunale visto che non si esclude che anche altre piante possano rischiare di cedere se sollecitate da forti folate di vento al termine dell'operazione via Sacco Vazzetti è stata riaperta al traffico restiamo nel Reggiano mandiamo alla cronaca della strada perché un pensionato di 78 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera nello schianto tra due auto in via Colombo a Novellara appena fuori il centro abitato all'incrocio con strada Ratino si è verificato l'impatto che vedete nelle immagini tra una Ford Mondeo e una Peugeot 306 da averla peggio è stato Primo Bartoli pensionato che abita a poche decine di metri dal luogo dello scontro il pensionato a 78 anni è stato ricoverato in ospedale a Reggio se la caverà con una prognosi di almeno due mesi la via è stata interrotta porta via Colombo e la strada che collega Novellara Reggiolo è stata interrotta per dicevamo permettere agli uomini della sicurezza di spostare i mezzi per i rilievi del caso poi tutto o quasi è tornato alla normalità questa era anche l'ultima notizia di questo nostro TG regionale in gran parte dedicato alla visa di Mario Monti a Reggio Emilia nell'anniversario del 215 anno della nascita della bandiera tricolore termina qui il nostro telegiornale della sera grazie come sempre di averci seguito e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti informativi grazie a tutti Grazie a tutti.